Fred, dove sei stato? E chi è quell'individuo che tieni per mano? Questo affascinante scapolo, a quanto pare, è la rana che riuscirà a far sì che io piaccia per sempre alla signora Croaker. Mi chiamo Jonah. Ok, è ora di entrare in scena! Signora Croaker, ho una sorpresa per lei! È il club del rompicapo del mese! Jonah? Sì. Jonah? Per tutte girene, stanno per flertare! Quindi sei davvero tu? Ma che ci fai qui? Sedi Croaker, c'è una cosa che mi porto dentro e che voglio dirti da 30 anni! Sì? Sì? Sì! Sedi Croaker, me la pagherai caro! Aspetta, cosa? Sedi, sedi, sedi! Pensavi di aver avuto la meglio su di me al Bogwater Canyon! Ma io non ti ho dimenticata! Jonah non è affatto romantico! La cinta mi riprenderebbe sicuramente indietro se ti sconfiggessi! 30 anni spesi a cercarti! Ma ti ho rinascosto troppo bene! Adesso grazie a questa piccola rana che mi ha portato dritto da te, il tuo tempo è scaduto! Avresti fatto molto meglio a lasciar stare la rana che dorme! Ti saresti risparmiato a quello che sta per succederti! Che cosa avresti intenzione di farmi? Non sei altro che una rana decrepita! Tu lo sei! No, tu! No, tu! No, tu! No, no! June, lei è una rana decrepita! La salverò io, signora Croaker! Stai indietro, ragazzo! Rimettiti la giacca, non è un bel vedere! Wow, sì, Croaker! Ghiè, una lezione! Wow, è stato... Magnifico! Ma che succeso?